guardate cosa sta facendo il mio compagno questa sarà una torre un'altra finita ora la sta saldando dopo vi farò vedere quando l'accende e si illumina tutta date quante cosine carine che ci sono sempre del mio compagno lui ama queste cose fa la collezione di accendini questi sono questi sono accendini questo fa la luce ora io non so come si apre ma fa tutta la luce è un accendino anche questo un accendino tutti accendini vedete anche questa qua è un accendino come faccio vedere se riesco che riesco faccio vedere ora è scarico non c'è gas ma è un accendino il resto questo l'abbiamo comprato a roma perché sono di roma ecco qua anche quello dietro questo vedete è una secca è una secca accendino e il mio compagno a questo a questo hobby anche questo è un accendino buongiorno amici e amiche di instagram guardate un po che bellezza questo è un orologio multicolor al buio tutto illuminato e meraviglioso cambia colori ora al giorno non si vede molto questo l'ha tutto costruito il mio compagno lui ama l'elettronica e questo l'ha fatto lui e fa tante tante altre cose vedete come cambiano i numeri la sera diventa tutta arancione per per dare più un'atmosfera leggera